Pronti per la riapertura delle scuole il 13 settembre, ai dirigenti scolastici degli istituti del Veneto orientale sono arrivate le proposte dei nuovi percorsi didattici sviluppati dal comitato organizzatore del 66esimo raduno nazionale Bersaglieri Piave 2018. L'intento è quello di ricordare non solo i cento anni dalla fine della grande guerra ma anche i valori e le esperienze del corpo dei bersaglieri. Sette sono le proposte, i bersaglieri che si raccontano nelle scuole, un concorso pittorico intitolato al Piave Fiume Sacro della Patria, le mattinate fai d'inverno e le visite al Museo della Bonifica. E poi un viaggio nella memoria organizzato per il 13 ottobre a bordo del treno storico in partenza da Nuova Goriza fino a Caporetto.